L'Università degli Studi di Teramo in vista dell'apertura e l'iscrizione anticipata il 18 di luglio ha varato un programma di novità sul piano della tassazione e della partecipazione che punta all'inclusione privilegiando le famiglie con redditi più bassi, i disabili e gli studenti meritevoli oltre a quelli che dividono lo studio con il lavoro. L'Università di Teramo continua ad innovare alla luce di due termini che possiamo racchiudere il tutto appunto nel termine inclusione e nel termine eccellenza. Inclusione, inclusione legata al reddito, l'Università di Teramo e per questo voglio ringraziare il Senato accademico tutte le facoltà, i colleghi, le rappresentanze studentesche quindi hanno deciso di fare uno sforzo non indifferente. Dal fronte economico a quello sportivo l'Ateneo continua a scommettere su una formazione il più accessibile possibile a tutti. Il limite di reddito ISEE del nucleo familiare che permetterà allo studente di non pagare nemmeno un euro di iscrizione all'università è stato inalzato da 22.000 euro a 24.000 euro, il che significa che saranno ancora di più coloro che potranno permettersi un corso di studi universitario. Un altro aspetto legato all'inclusione molto importante è che l'Università di Teramo vara per la prima volta in Italia come unica università dei percorsi per persone disabili per acquisire l'attestato di frequenza ad alcuni corsi di laurea selezionati. Questo attestato di frequenza di fatto è un percorso parallelo quindi possono accedere i disabili che hanno acquisito l'attestato di frequenza per tutti e cinque gli anni delle superiori. Anche questo è un'inclusione importante, è un altro aspetto legato ovviamente ai lavoratori quindi abbiamo varato un regolamento specifico quindi per venire incontro alle esigenze di tutte le categorie di lavoratori inclusione anche per quanto riguarda lo sport, il CUS vara una sezione paralimpica. E poi eccellenza, gli studenti che hanno una media di almeno 27 impari con gli esami possono aspirare facendo domande entro novembre ad avere dei percorsi formativi specifici anche ad accelerare la loro carriera.